buongiorno francesco buongiorno buongiorno allora hai portato i tre cavallini arsenio e angelo rosa abbiamo già presentato e li vogliamo aggiungere niente ora speriamo che che ci diano lui che i veterinari che li hanno appena misurati e di conseguenza potranno fare anche un percorso percorso piazza se si se ne no faremo altro a te non immagini se il primo di luglio si va a famociano non ci pensiamo non ci pensiamo della depressione e siamo finta di essere squalificati dai ok tanto abbiamo parlato abbiamo fatto tutta anche l'altro giorno era solamente per fare due parole senz'altro comunque la garza europea è andata più forte a tre anni poi che l'altro? Camilo visto che quando fanno il passaggio di età poi magari c'è da ritrovare un po' l'assetto giusto però è un cavallo che ci credo quindi penso che se non è alle due alle tre qualcosa farà vedere per piazza li applicano molto ma io sono convinto che possa andare bene anche per altre cose però c'è qualcosa che ancora devo capire mi sto impegnando che ancora ci stiamo provando insomma ma sono convinto e che è un cavallo interessante ok grazie a te